E' stata definita la Camarghi italiana l'area di diverse centinaia di ettari che doveva accogliere l'ottavo Lido di Comacchio. Negli anni 50, infatti, quando venne progettata l'espansione urbanistica sul litorale, inizialmente era previsto un ulteriore Lido e sette già esistenti, quello tra Lido Nazione e Lido Volano, ma alla fine venne fatta solo l'urbanizzazione delle strade che si vede ancora. Qui, al Lago delle Nazioni, negli anni 60, veniva a pescare l'attuale proprietario del villaggio turistico e residence Spiaggia Romea, che si innamorò del luogo e comprò i 500 ettari di terreno tra Nazioni e Volano. Ora, in una parte abbondante dell'area, vivono i cavalli del Delta, razza importata dalla Camargue francese e che qui trova tutte le condizioni per crescere. Sono avanti due pulitri nuovi, uno maschio e una femmina. Nel corso dei decenni l'area si è arricchita mantenendo però sempre forte la sua vocazione naturalistica. Circa 38 anni fa il proprietario di questo posto ha importato questi cavalli e dopo circa 20 anni che si riproducevano qua è diventata appunto razza autoctona, quindi il cavallo Delta. Vivono allo stato semibrado e si cibono principalmente di erba, il cavallo è un erbivore, quindi l'alimento principale è l'erba e in più noi, nelle stagioni in cui l'erba è un po' poca, diamo il fieno, integriamo. I cavalli convivono con i tori e i daini, tutti insieme. Qui cresce persino il giunco che veniva usato dai comacchiesi per creare le ceste e per contenere le anguille. A fianco dell'allevamento di spiaggia Romea c'è la più grande struttura alberghiera nel Delta del Po dell'Emilia Romagna con Bangalove e Residence che richiamano qui ogni anno migliaia di turisti da tutta Europa. Siamo in questo momento nel cuore di quello che per noi è il concetto della vacanza naturalistica vera e propria e in compagnia proprio di quelli che sono per noi gli abitanti più importanti che sono i nostri cavalli, i nostri tori e tutto quello insomma che la natura ci può proporre in questo momento poi un po' particolare di una stagione insomma bella lunga diciamo, quindi si passa dall'estate all'autunno alla primavera dove la natura ci offre veramente delle immagini e dei colori totalmente diversi che noi siamo orgogliosi di mostrare. Una filosofia green e sostenibile per non impattare su un territorio unico. E soprattutto abbiamo strutturato il nostro villaggio con dei mezzi elettrici e le biciclette in modo da raggiungere qualsiasi punto in maniera del tutto naturale e soprattutto non inquinante in modo che i nostri ospiti possano anche individualmente raggiungere i punti più importanti legati appunto ai cavalli e alla nostra fattoria didattica che mostra animali di tutti i tipi con anche qualche diciamo mascot della struttura stessa. Il delta è terra e acqua, acqua qua ne possiamo trovare di tutti i tipi nel senso quella dolce e quella salata. Certo, dolce, salata, dolce diciamo artificiale delle piscine, salata del mare ma anche salmastra del nostro lago. Lago balneabile, il lago delle nazioni che spesso viene appunto visto semplicemente come il lago del Lido, giustamente di Lido delle Nazioni ma realmente da quest'altra parte è un lago molto operativo sia a livello velico quindi con un sacco di sport e con tantissimi ragazzi che si approcciano al mondo della vela sia grazie a noi che al centro nautico della Lega Navale e poi abbiamo la canoa, il pedalò, il windsurf, il catamarano viene utilizzato tantissimo, i tedeschi soprattutto fanno un sacco di bagni all'interno del nostro lago e quindi è un'attività diversa rispetto a quella classica che naturalmente si può offrire all'interno di una struttura.